Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Squad, il gioco di guerra che deve uscire fra un mese su Steam o anche fra due mesi, non lo so, forse è sempre a dicembre su Steam e quindi eccoci in un nuovo video di Squad tanto richiesto, cioè il ruolo da cecchino in questo video ho cercato di fare il cecchino solitario, quindi con la mia Squad, senza nessuno dentro ed è stato davvero difficile, wow ci ho provato ma è stato troppo difficile giocare solitario perché questo gioco è di squadre, bisogna unirsi alle altre squadre e comunicare perché la comunicazione è la cosa che porta alla vittoria, è quella che porta alla vittoria questi video non ne farò sempre, solitari, perché in questo gioco non bisogna fare le Squad da soli e giocare da soli come sto facendo io, dovete unirvi a queste Squad che sono belle grosse comunicare e cercare di prendere gli obiettivi e altre cose è sbagliatissimo giocare da soli in questo gioco perché è un gioco da Team Play quindi ricordatevi, giocare di squadra è la cosa più importante io ho fatto questo video da solitario, ho cercato anche di sopportare gli altri solo perché dovevo mostrare il cecchino e quindi le altre squadre erano già piene e avevano già il cecchino occupato perché il cecchino non possono usarlo tutti ma lo può usare solo una persona e quindi niente, godetevi il video e ditemi che ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! ho la seconda, è la prima squad davanti a me quindi adesso con il mio SVD cecchino devo andare a coprirli e cercare di aiutarli dalla distanza siamo appena spawnato lì nel compound là dietro e sto percorrendo questa strada e mi sto per raggiungere la seconda squadra la prima vedo che è nel fiume forse nel fiume c'è qualche casino, andiamo a vedere questo fucile da cecchino è davvero pesante, come vedete basta che corri, che corra per qualche secondo e e mi stanco già subito, molto, molto pesante, davvero bello sta arrivando, sta arrivando sicuramente provengono dal fiume il fiume lo possiamo vedere anche già da qui lascio un'antenna si ok Guy, get down a 5 man si saranno anche l'altro ponte ok ecco, ecco lo squad leader stavano dall'altra parte, quindi non sono qui i nemici aspetto secondo Blackhawk si, si, si sentite sti spari mamma mia bellissimo è sicuramente un cecchino andiamo a vedere quindi si vengono dal sole i nemici ok si è un svd, quindi è un cecchino si è appostato qui sopra controlliamo dall'altra parte del fiume oh, eccole eccolo, ecco lì oh, guardate lì un'intera squad che sta scendendo al compound oh sì vediamo se là sotto c'è già qualcuno no spara anche lui ok non so che parte dovrebbero arrivarci i proiettili da qui non ne sono tanto sicuro è la prima volta che faccio il cecchino ok, si stanno tanto avvicinando quindi tanto di cappello scendo ancora di più perché vedete, stanno scendendo al compound mi devo mettere in una posizione buona ovviamente adesso quelli là mi hanno sicuro è sicuro che mi ha visto ok, è ferito è ferito quello è ferito, è ferito come vedete è caduto giù oh, siamo a Juzara Bridge bene io sono il cecchino di Juzara chi è quello? oh, eccolo, è Black Hawk allora, se lui è lì sulla destra e sto qui sulla sinistra l'ho ucciso porca miseria è troppo difficile è troppo difficile usare sto cecchino ha ucciso Black Hawk no Black Hawk è ancora lì holy shit aspetta, arrivo adesso arrivo però non posso reanimarlo perché non sono non sono medico no, non posso porca miseria eh, è morto eh, sapevo che doveva stare attento me ne torno indietro secondo me c'è qualche altro americano eh, è davvero difficile con l'SVD io non posso spariare perché se spraio si scanna tutto cioè devo sparare colpi singoli ma veloci come ho fatto dopo alla fine prima che mi uccidesse anche lui è facile con l'M4 ammazzarmi loro hanno gli M4 ci vuole due secondi a uccidermi eh, lì vedi anche lui aveva l'SVD eh, ma dobbiamo stare attenti perché loro arrivano dal fiume come vedete abbiamo il fiume sulla sinistra davanti a noi e vengono da lì e si rischia troppo ne arriva sempre uno oh, eccone un altro guardate non posso sparargli perché non ho perché perché si sta muovendo mi farei solo vedere mi farei solo sentire mi straio qui mezzo al fogliame ecco lì appena si ferma appena si fermano questi due oh mio dio sono in tre sono quattro fermati 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 ti ammazzo fermati ti ammazzo colpito l'ho colpito l'ho colpito e gli ho fatto anche male se hai visto o l'ho ammazzato o l'ho colpito l'ho colpito però spero che sia morto il primo colpo deve essere andato un colpo in testa ricarichiamo eh non mi devo far vedere dalle altre squad cioè da quella sua squad che adesso sta sta venendo a prendere mi sta venendo a prendere ecco l'ho lì uno però no sono troppo esposto ma chi è questo ma è stupido c'era un altro americano qui non mi ha neanche visto fottuto idiota non mi ha neanche visto comunque non c'è nessuna squad qui c'è solo la squad 4 la squad 1 che stanno davanti a conquistare Giosaro io sono dietro di loro che li sto coprendo come avete visto questi americani stanno andando da dietro ai terroristi per ucciderli da dietro ma io li sto ne ho uccisi già due due tre ne ho feriti eccetera eccetera spottati adesso se si ferma quello lo ammazzo ok quello lì è morto appena si ferma fermati non posso sparare a caso devo aspettare il momento giusto il momento giusto bravo no no mi è arrivato alle spalle come avete visto non dovevo sparare a caso ma mi sa che l'ho ammazzato quello devo ancora imparare sia la zeramento non so se c'è la zeramento ma devo ancora imparare a sparare e a sparare devo capire la misura di quanto sparare in alto perché come vedete adesso io ero qui cercavo di ammazzare quelli che cercavano di venire da questa parte cioè venivano da questa parte per andare da dietro e ucciderli io stavo qui e cercavo di uccidere quelli che venivano alle loro spalle perché loro devono sopravvivere alcuni ne ho feriti alcuni ne ho uccisi ma questo qua è venuto ancora più dietro alle mie spalle e mi ha ammazzato quello lì l'ho continuato a sparare e secondo me è morto devo ancora capire perché qua bisogna sparare più in alto spari più proiettili scende quindi c'è il coso della gittata quindi devo capire queste cose mi sa di aver fatto un buon lavoro dai per essere stato da solo io non capisco quell'americano come ha fatto a non vedermi porca miseria gli ho fatto un bel noscopo avete visto comunque ricordatevi che sto gioco bisogna giocare di squadre non come sto giocando io in questo video sto facendo questo video proprio per farvi vedere il cecchino e questa bellissima arma che è l'SVD ma poche volte farò queste cose cioè giocherò sempre di squadre in team molto meglio come vedete è anche più divertente giocare così solitari non porta la vittoria anzi porta la sconfitta anche se ci stanno tanto distruggendo eccetera eccetera questo è il mio compagno un altro compagno con l'SVD non è Blackhawk no è un altro è Mittal si chiama Mittal vabbè comunque come vedete eh ho fatto male se spariate tanto un nemico vi è vista e vi ammazza spero che quello sia morto o almeno è ferito non lo so l'ho sparato un casino di volte adesso ritorniamo dove eravamo prima ah il disegno è rimasto che figo quindi so anche dove devo andare è nella riga lì è al punto della riga adesso stopo indietro forse mi apposto qui da qualche parte e comincio ad avvistare altri nemici eccolo lì eccolo lì sembra essere solo quello quindi cerchiamo di prenderlo e di ammazzarlo sembra essere solo ve lo dico dove è andato? è sceso è sceso in quegli alberi poi c'è spuglio e là ce n'è un altro non è quello che era qui no no eccolo ucciso via adesso avviserà subito nella mia posizione ai suoi compagni devo cambiare del tutto posizione del tutto no one defending gg in questa partita sono tutti arrabbiati tutti c'è chi rosica perché non uccide tanto c'è chi rosica perché nessuno difende c'è chi rosica perché c'è una squad chiamata sniper eccetera eccetera ok allora sappiamo che adesso quelli arriverà e mi verrà a cercare e mi vorrà a uccidere oh questa cos'è? non è? non è l'ifobie del nemico sembra essere l'ifobie del nemico secondo me so che ci stanno anche i rally point che sono zaini che puoi piazzare per il per il coso che sono zaini che puoi mettere per fare spawnare la gente però appena c'è un nemico di fianco sparisce come mi ha detto un ragazzo che gioca a squad nell'altro video però boh adesso ho paura a dare le spalle a questo coso perché se dopo spawnano dietro di me mi ammazza stiamo più indietro allora eh ma già da qui non vedo nessuno eh devo avvicinarmi per forza guarda guarda lì cosa avevo detto? è una zona di respawn questa cerco di seguirlo non posso stare qui tanto vola vola spacca appena si ferma ci provo no volevo farli il leccio pulito però non ce la faccio non si è accorto di me per ora no no lo sapevo lo sapevo sono respawnati tutti lo sapevo lo sapevo non dovevo seguire quello perché quello lì è un altro punto di spawn che non so se si può togliere porca miseria lo sapevo quindi sappiamo che il loro punto di spawn è questo metto faccio un cerchiolino che devo saperlo qui quello è un punto di spawn e devo ricordarmelo così adesso ho capito quelli della montagna da dove arrivano arrivano da qui da questo punto eccoli là i miei compagni stanno andando da un'altra parte del ponte del fiume sono già da un'altra parte del fiume che è quello? ah compagno ci vado anche io così poi vedo arrivare dei nemici da questa parte li ammazzo ovviamente americani quindi se volo davanti non dovrei morire giusto? oh eccola guarda guarda sono sotto il ponte come l'ha detto qualcuno mi stanno già facendo spottare questi qua no è un compagno vedete allora pushiamo push in quest'isola centrale per poi ammazzare quelli che stanno al ponte allora è davvero bella l'acqua ovviamente il gioco è ancora in lavorazione quindi la hitbox come vedete certe volte si sta sdraiata nei bordi non funziona ucciso e quindi tutto in lavorazione tutto cambierà anche i rally point non si sa ancora come li faranno neanche i fob molte cose devono cambiarle quindi sto giocando a un gioco in sviluppo e io sto cercando di imparare prima che esca il gioco almeno così almeno da non sembrare un fottuto idiota che fa i video su un gioco che non sa neanche giocare allora sappiamo che c'era lì un americano ce ne erano due ne avevo visti due ma forse molti altri sono passati proprio lì nel fumoggio rosso ma sono uno è morto che l'ho ucciso io ma l'altro non so dov'è non so quante volte ho sparato quindi ricarico quello è un mio compagno anche davanti a me ce n'è un altro quello perché mi guarda mi fa impressione non guardarmi eh ma qui mi sto già avvicinando fin troppo sento sento spari da quella parte non capisco lì c'è un nemico porca miseria potevo fare un headshot pulito sapevo che c'era qualcuno in questo cacchio di campo in questo campo di fiori rosa adesso non so se sta avanzando o se è rialzato devo aspettare che si rialzi e questo che facevano l'ha visto e non riesco a saltare sto posto per tempo sto guardando se vede il nemico oh la ok con calma chi c'è la si la vedo qualcuno quindi se rimango qui prima o poi ci muoio ma se fanno cazzino questi a capro senti senti ecco mi metto mi metto qui ecco qui è perfetto ma che cacchio no no mi metto qui Grazie.